Madeleine Verdié, giovane attrice squadrinata, avrebbe sparato a bruciapelo al famoso produttore Monsieur Monferran. Ancora una volta è stata una donna. Il tribunale è sommerso di casi irrisolti. E a me sarebbe bastato un solo interrogatorio per scoprire la colpevole. Confermo il crimine della mia cliente, ma confermo anche la sua innocenza. Quando conosceranno i dettagli del tuo crimine, mia piccola Madeleine, ti ammireranno. Il nostro crimine sarebbe essere uomini. Il suo crimine? Non fatemi ridere. Dio mio, questo crimine è un'atrocità. Ma che posso dire? Gli devo la mia fortuna. Mio figlio che sposa quella Verdié? Sarebbe un doppio crimine. Confesso il mio crimine.